Scegli dimmi dove e il tuo annuncio arriverà a destinazione. Sollecitata dai pubblici ministeri che già indagavano sul crack finanziario. I fatti comunque riguardano il fallimento della Cecchigori Finmavi, la finanziaria del gruppo. L'imprenditore era sotto inchiesta già da diverso tempo ed il pubblico ministero aveva già chiesto in precedenza il rinvio a giudizio. Vittorio Cecchigori, rivolgendosi ad alcuni stretti collaboratori, ha detto «State tranquilli, si tratterà sicuramente di un disguido». Intanto veniva accompagnato fuori di casa dalle forze dell'ordine, facendolo piombare nell'ennesimo guaio con la giustizia. Vittorio Cecchigori è stato spesso al centro della cronaca per i suoi trascorsi di presidente della squadra del calcio della Fiorentina e per il suo impegno quale senatore della Repubblica, nonché per la sua storia con la subret Valeria Marini.